Ciao ragazzi io sono Red e oggi vi posso portare una recensione che stavo aspettando di fare da secoli Perché stavo aspettando di fare questa recensione da secoli? Beh perché questa pistola come avete letto dal titolo in Italia non era ancora arrivata E siamo uno infatti dei primi canali che la porta qui in Italia Ho cominciato a vederla all'estero, ho cominciato a sbavarci sopra cercando di reperirla anche qui Ho dovuto aspettare veramente tanto ma alla fine siamo riusciti a metterci le mani sopra E sto parlando ovviamente della AAP01 Prima di proseguire però sigla Tu hai ordinato il pranzo, mangi mentre io faccio il video e non mi hai preso nulla Devi vergognarti Ragazzi come avete visto oggi ho cambiato cappellino così variamo un po' E poi ho una sorpresa speciale sotto la mia maglia Quanto è bella Quanto è bella c'è anche scritto This shirt gets girls Che vuol dire questa maglia Beh capì sono pronto a dire di no visto che ce l'ho da quando facevo le superiori E l'effetto non era proprio quello Spero vi siate goduti queste cagatine iniziali Procediamo invece con la recensione effettiva Ragazzi questa pistola è veramente molto figa Ovviamente pareri personali C'è qualcuno a cui non piace vero che sta mangiando le penne al cazzo di dietro Come stile ricorda vagamente l'MK1 che avevo messo nella top 10 pistole per estetica Se non l'avete vista vi lascio la schedina in descrizione Questa però è fatta molto meglio per tutta una serie di ragioni Prima però di elencarvele vi ricordo che è stata prodotta da Action Army È una pistola estremamente nuova All'estero ha già fatto abbastanza scalpore Ha colpito molto il pubblico per la varietà di accessori che ci si possono montare sopra Ma lo tratteremo adesso negli esterni Bentornati nella parte degli esterni Andiamo ad analizzare un pochino questa pistola dalla parte del guscio Della copertina Togliamoci subito il dente Che per alcuni è un dente da togliere Per altri è una bellissima otturazione in oro Questa pistola è praticamente tutta realizzata in polimero Questo significa che tutte queste cose qui che vedete Compreso lo spegni fiammino Che poi spegni fiamma insomma copritore della filettatura È in polimero Ok? Non è in plasticaccia però è in polimero Quindi Spero che qualcuno l'abbia capita questa Quindi come detto è interamente in polimero Questo non disturbo più di tanto Perché avendo un feeling e un modello da pistola Un pochino semi futuristica Semi molto silenziosa Non disturba Altra cosa che ovviamente potrete notare È che questo Mettimela a fuoco gentilmente Altra cosa che probabilmente avrete notato È che questa pistola Pistola è che questa pistola Non scarrella nel senso del carrello che si muove Ovvero si muove solamente questa parte interna Cioè la parte interna qua che fa avanti e indietro E man mano che fa avanti e indietro può andare a sparare Però il carrello sopra è fermo Scarrella se il carrello non si muove Bella domanda! Altra cosa veramente figa riguarda i caricatori Non tanto perché sono qualcosa di nuovo O qualcosa che non si era ancora visto Ma bensì perché sono da Glock Sono i vostri tipici caricatori green gas Quindi questa pistola sostanzialmente è compatibile con caricatori Glock Che tendenzialmente tutti quanti hanno Perché tutti siamo passati dalla Glock Cosa molto figa che vi fa risparmiare ovviamente dei soldi Nel momento nel quale volete usarlo un pochino più seriamente Ovviamente offre grande varietà nei caricatori Ma ci arriveremo dopo perché c'è una particolarità interna Ovvero che funziona CO2 anche Che vi dico dopo Continuando con le caratteristiche esterne Troviamo una sicura funzionante Quindi l'abbiamo sia a grilletto che ovviamente qui di lato Come potete vedere così è inserita Così invece possiamo andare a premere il grilletto Molto carino perché è presente sia a grilletto che qui Visto che quella a grilletto tendenzialmente ogni tanto Non sempre funziona Nel senso che può comunque andare a sparare in maniera semplice Così siamo sicuri al 100% di non sparare in faccia A il ragazzino di 12 anni che ci sta chiedendo Perché Red sei così famoso su YouTube Non è mai successo ovviamente Era per farla gag Altra cosa che mi è piaciuto molto Sono queste stupende tacche di mira in fibra Vanno velocissimo su internet Ovviamente tutte le volte che dobbiamo registrare Ci deve essere nuvoloso Quindi prima c'era il sole Adesso sembra l'apocalisse zombie numero 2 Comunque come stavo dicendo Nella parte anteriore Che poi è quella posteriore Dislessia portami via Sono verdine Mentre sul davanti ce n'è una bella rossa Lato positivo che ho trovato È che essendo un pochino più ciccione Rispetto alle altre tacche di mira Immagazzinano molta più luce E il puntamento è abbastanza semplice Anzi mi piace parecchio Qui si apre il dibattito su È più semplice mirare con questo O con le glock Io qui il puntamento lo trovo facilmente C'è chi mi dice invece che ha più difficoltà Rispetto che sulle glock Quindi provatela Dovete vedere voi Altra caratteristica Che poi andrà nelle features speciali Di questa pistola È il fatto che sotto questo spegni fiamma Che apprezzo tantissimo Sia nero E sotto si trovi il colore della pistola Ci sia già la filettatura Se magari la metti a fuoco Grazie Ci sia già la filettatura Per montarci un silenziatore In questo questa pistola Se la volete utilizzare Necessita un silenziatore Perché se no rovinate lo stile Così piacevole di questo oggettino Unico lato negativo però È che essendo in plastica Cioè polimero rinfertato e bla 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 Non è così resistente come uno in metallo Quindi se non state attenti Potete andare a graffiare la filettatura O si potrebbe andare a rompere Appunto col tempo Altra cosa che apprezzate È che il bolt release Ovvero il tastino per sganciare il carrello Sia presente sia sulla sinistra Che sulla destra Quindi noi figli del demonio Siamo a posto Non sono mancino Però i capelli rossi Un po' come dire Non sono bello ma spaccio Nel retro del carrello Ovvero nella parte Che viene indietro Quando andate a sparare Trovate giusto sotto Questo selettore di fuoco Perché questa pistola Ha il selettore di fuoco? Beh perché può sparare In singolo o in raffica Le vendite della AAP-01 Stanno per terminare Affrettatevi Ecco il fatto che non è Full metal Ma è per la maggior parte In plastica E quindi ci sono meno Metalli che battono Contro i metalli Potete capire come questa Forse è una di quelle pistole Che spara a raffica E non vi si spacca dopo Tre raffiche Sto esagerando ovviamente Altra cosa che ho apprezzato Sono i grip messi Sull'impugnatura Troviamo il dorsale Posteriore Che è simile a quello Delle Glock Sostanzialmente potete andare Ovviamente a metterci I rialzini Gli spessorini Per adattarvelo Alla mano Ma le guancette Laterali mi piacciono Mi piacciono veramente tanto Hanno usato uno stile Un po' ibrido Tra questo Hive E questo Cartavetro Insomma Passatemi i termini E mi piace Veramente tanto E hanno cercato Di staccarsi un pochino Dal modello Glock Che è già visto Insomma Parlando di repliche E che Mi sono spezzato Un dito Infine Troviamo questo bel Mulsantino Che ci permette Di aprire la pistola In due Ma lo vedremo In maniera più Approfondita Grazie Lo vedremo in maniera Un pochino più Approfondita Negli interni Siamo arrivati finalmente Con gli interni Saranno gli interni Più veloci Ma allo stesso tempo Più interessanti Della vostra vita E se è così non è Mi mangio il cappello Quanto riguarda gli interni Poi non è che ho molto da dire Se non che Prima cosa che mi ha Colpito tantissimo È che quando andate a premere Questo bellissimo tastino qua La pistola si apre Con questa semplicità Non so quanti di voi Sono abituati a dire Le Glock della VE In generale Le Glock sono bellissime Perché tiri giù due cose La apri Sei un drago Con questa pistola È 0,5 secondi Gli interni Come vedete Sono sostanzialmente Quelli della Glock normale Non fanno niente di particolare Se non che ovviamente Il funzionamento Prevede che questa cosa Venga indietro E ovviamente Vada a incamerare I vari pallini Una cosa molto figa Però degna di nota È che questa rotellina qua Serve a regolare lo PAP Quindi non la trovate interna Il gruppo PAP come è Normalmente nelle pistole Ma la trovate appunto Con questa bellissima Rotellina laterale qui Molto figo Ed è molto 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 più semplice Andare a regolare lo PAP Dalle pistole So che molti di voi Non lo fanno Io sono il primo Che si rompe i coglioni Perché tutte le volte Devo bestemmiare Non mi ricordo Da che parte Bisogna girarlo Però è essenziale Per migliorare il plug and play E su questa pistola È estremamente semplice Come avevo detto prima Qua sotto trovate Il selettore di fuoco Ovviamente voi Quando la pistola è montata E tirate indietro Questa rimane aperta E potete andare a mettere Automatico O colpo singolo Potete farlo Con una semplicità Estrema Ovviamente Non è semplice Come muovere Un selettore di fuoco Come può essere Per la G34 Della VE O altre pistole a raffica Però non è neanche Così macchinoso O altro Quindi gli interni Sono quelli tipici Della vostra pistola Glock VE O chi per lei La cosa vantaggiosa Però che ovviamente Sono compatibili Con la stragrande maggioranza Delle varie modifiche Che potete fare Sulle vostre pistole Sono venduti quindi Una serie di kit Per andarla a migliorare All'interno Quindi tutto quello che volete Lo potete trovare E montaglielo sopra Vi faccio vedere Anche la parte inferiore Giusto per completezza Questo qui è la sicura Che quando andate a premere Potete vedere che si muove Carino Niente di che Però giusto così E tutto il resto Bene Adesso che vi ho fatto Questa mega carrellata Di informazioni Possiamo passare Alla ciccia del video Ovvero la feature speciale Di questa pistola Ma Red Ma quale sarà mai La caratteristica Essenziale Più interessante Di una pistola Così accattivante Crocante E gustosa Te lo dico subito Mio fedele iscritto Ma prima Devo salutare Rossi Gabriele Che mi ha scritto Su Instagram E mi tiene informato Su quanto gli piacciono Le mie storie E i miei video Supporta sempre il canale È iscritto E attiva la campanellina Non come voi Faiordi di Liffio Quindi saluto Rossi Gabriele Vi ricordo di attivare Le campanelline Perché YouTube funziona Un po' da cacca E se no vi perdete Video incredibili Come questo E molti altri Quindi qual è la feature Più importante Di questa pistola È la Adattabilità Cosa intendo dire Per adattabilità Beh questa pistola Ha un parco Accessori E una Adattabilità Una modificabilità Molto 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 Elevata Vorrei Aguantarla Questo perché È già stata Pensata E predisposta Per essere Agghindata In 200.000 Modi diversi Al che Prima non ve l'ho detto Apposta Questi due buchini Sono fatti apposta Per poter mettere Un rail qua sopra C'è la possibilità di montarci Un calzo C'è la possibilità di montare Un prolungamento della canna Un silenziatore dedicato Potete metterci Come dicevo prima Dei caricatori apposta Che già esistono Quindi di terze parti Anche senza problemi Drum mag Quindi un bel caricatore Drammino Su questa Che spara raffica Vi sentite no La scimmia qua Che vi dice Comprala Comprala Un caricatore da 50 colpi Potete usarla con il green gas Come il CO2 Quindi in inverno CO2 Ed estate green gas Ve ne fottate Voi ci fate Quello che volete Ragazzi Questi sono solo Piccoli esempi Ma veramente Ha un parco di accessori Gigantesco Per quelli di voi Che adesso Stanno cercando Di far scendere Questa cazzo Di scimmia dalla spalla Pingere la terra Picchiarle Dirle basta Non ce li ho I soldi Per comprarla Vi dico Che questa pistola Non ha una Solo l'afficio speciale Ma ne ha ben due Perché non costa Un cazzo Eh sì Vabbè Per te non costa Un cazzo Vuol dire Che come minimo Ci devo lasciare 125 euro 99 euro Virgola Questa pistola Non costa nulla Per quello che offre Tra l'altro Ha personalmente Opinione personale Liberi di dirmi Su nei commenti Un rapporto qualità prezzo Devastante In quanto a differenza Magari già di Block della VE Economiche Sì però Sì però Che possono Andare a presentare Tutta una serie Di problemi Dato il fatto Che i soldi in metallo Hanno più complicanze Questa no Questo no Perché ha Per come è stata pensata E costruita Una semplicità Nel funzionamento Che vi garantisce Una buona affidabilità Senza parlare poi Del fatto Che partite con questa La usate Se vi piace Poi la portate avanti E la potete andare A modificare Molto più Di una Glock normale Su cui alla fine Cambiate L'attivo PAP E poi Della pistola Non è un granché Passiamo quindi Alle conclusioni finali E lascio la parola A Me stesso Quindi passiamo al voto Diamo a questa pistola Bellissima Un 9.12 Perché diamo a questa pistola 9.12 Beh avete i voti Qui di fianco Sono voti alcuni Un po' stronzi Sì tipo questo 9.9 Che è un po' come Quando la professoressa Vi dà 6 meno Cos'è 6 meno Dammi 5.75 Dammi 6 Non 6 meno Cacca Abbiamo dato questi voti Ovviamente perché la pistola È veramente molto valida È un voto alto Ma è una pistola Che veramente per qualità Prezzo La dà a mangiare In faccia a tutti gli altri Per quelli di voi Che ormai stanno chiudendo il video Con la convinzione Di aver già visto tutto Beh vi sbagliate Infatti abbiamo deciso Di introdurre una nuova Features all'interno Dei nostri video Adesso il buon Wargasum infatti Entrerà all'interno Dell'inquadratura E vi dirà Quello che a lui Non è piaciuto la pistola Lui è un pochino più Picchi Un pochino più stronzetto Di me E vi potrò dire In maniera più completa Cosa che non gli è piaciuto Della pistola Visto che lui sta lì A guardare anche il buco Prego Red è sempre troppo bravo Nelle recensioni Troppo dolce E troppo pussi Vuoi un pugno? Vuoi un pugno? Calderezza No E quindi è il momento Di qualcuno Che vi faccia tornare Alla realtà No comunque fate sempre Affidamento alla pagella Perché sono i voti Che entrambi discutiamo Quindi sono quelli Un pochino più affidabili Che chiudono tutte le idee Io cosa vi posso dire? Come ha già detto il buon Red Durante la recensione Il fatto che Questa copribolata Che nasconda la volata Filettata Si è fatto in polimero Per quanto c'è un ottimo polimero E comunque polimero Ragazzi Il cazzo di silenziatore Uno pesa Uno pesa Ci prendi contro Una volta E hai crepato qui Ma che senso ha Farle in polimero Ste cose Infatti Actionarmi Porca Se caldo su una cazzata Che potevi benissimo evitare Altra critica Per me è Ovvio Successo di cosa Già iniziamo Già iniziamo Altra critica Per me è il design Ragazzi Nel senso Questa qui È una pistola brutta È una pistola brutta Per me è bruttissima Se io vengo dalla beretta M9 a 3 Questa qui è orribile Però Che riconosco Che ha tutte le feature Che si possono cercarci Una pistola da software Cioè dalla metta Anche a pistole Che ho Che magari costano Il quadruplo Ok Non è vero Costano al massimo Il triplo Però comunque Mi fa incazzare Che una pistola così brutta Ai miei occhi Ebbia tutta questa tecnologia Tutta questa innovazione Per un prezzo così imbecille Porca miseria Quindi il lato negativo Che ti fa rosicare E l'ultima critica La faccio un po' Sul Quanto sia Comodo Come ha detto Red Io ero quello che criticava L'impugnatura Perché sì È vero che In puntamento Ci entri Più o meno comodamente Ma non così comodamente Come su altre pistole Tuttavia Riconosco E non dovrei Perché dovrebbe essere Solo una fase di critiche Che una volta che sei entrato in puntamento Che hai perso quei 40 minuti Ad allineare tutte le tacche di mira Dopo Nella fase di sparo È vero Sta ferma lì Questo grazie ai grip Che ha posteriormente E anteriormente Actionarmi Porca tr***a Sei la marca Meno cagata Sulla faccia Del software italiano E forse anche estero Perché questa volata È in plastica Cioè Vuoi proprio essere insultata Di nuovo Io Non ho altre critiche Bruttaforte Civile Mentre c'è Wargasm Ma è un po' più casino No? Bene Quindi questo è tutto Quello che avevo da dirvi Su questa bellissima pistola È veramente un gioiellino E questo gioiellino È linkato in descrizione Quindi potete fare un salto Qui sotto Trovate la descrizione In descrizione E in descrizione Sapete cos'altro Trovate I link di Instagram Su Instagram Io e il negozio Pubblichiamo Tornei Lobby private di Warzone Ragazzi Lobby private di Warzone Con Monopoly Sondaggi Opinioni sui fucili Il buon War Ha deciso di comparsi Fucile nuovo Grazie ai vostri consigli Veniteci a seguire Perché pubblichiamo Una quantità Indecente di contenuto E perché no Quindi Qui da Red È tutto Se non che Oggi è sabato Quindi su Monopoly Software Webpage Linkato in descrizione Trovate sei articoli Quasi sotto costo Sperate di trovare Quello che vi spetta Altrimenti Passate prossima settimana Noi ci vediamo Infatti Mercoledì Con pillole E stay angry 2 1 2 2 3 2 3 2 3